Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa. L'Emporio ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Baia delle Driedi, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che vede Jedi e Sith esserne protagonisti. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia lo starter per due giocatori del set scintilla di ribellione di Star Wars Unlimited. La scatola presenterà le immagini di Luke Skywalker e Darth Vader intenti a combattere tra loro con la rispettiva spada laser, il titolo del set di riferimento, il nome del TCG e le diverse diciture del caso, assieme ai loghi della casa produttrice e del franchise sulla parte frontale, solamente la tipologia di prodotto e l'età consigliata per l'utilizzo dell'articolo su sfondo, completamente rosso sulla parte superiore, i vari marchi registrati riportati sul fondo, la sola immagine di Luke con tutti i dati già visti sul fronte, sul lato sinistro, e di Darth Vader, su quello destro, e la lista intera dei due mazzi, con la descrizione del contenuto e tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione, al suo interno troverete i due starter che avranno come leader proprio gli stessi Luke e Darth Vader, due deckbox di cartone con i rispettivi protagonisti stampati a mezzo busto sul dorso e di vari loghi sia della FFG che del titolo in questione, sui lati destro, sinistro e parte frontale, il tutto decorato con delle trame lucide che caratterizzeranno la scatola, una guida rapida per imparare a giocare, 40 segnalini dove saranno presenti danni da 1, 5 e 10 unità, un token che indicherà l'utilizzo dell'abilità epica del leader e un altro per l'iniziativa, e due poster playmat di cartone che forniranno a tutti gli appassionati una plancia di gioco iniziale su un lato, mentre sull'altro riporteranno a tutto foglio i personaggi di questo articolo campeggiare protagonisti. I mazzi presenti nell'articolo proporranno ad ogni giocatore un archetipo dedicato, dove Luke con la sua abilità andrà a proteggere i propri alleati sul campo di battaglia fornendo scudi atti a contrastare le dinamiche avversarie, servendosi di sercini per velocizzare la strategia che muoverà l'intero deck così da impiegare sul campo di battaglia forze di terra e spaziali pronte per muovere guerra all'impero non risparmiando un singolo colpo, e Darth Vader che permetterà a chi ne vestirà i panni di infliggere danni ad oltranza, sia alla base nemica che alle unità presenti in campo, servendosi di ogni risorsa messagli a disposizione dall'impero stesso, per dare la caccia ai ribelli mettendo fine all'insurrezione ed estinguendo una volta per tutte l'ordine dei Jedi. Con elementi specifici presenti nel mazzo inoltre, riuscirete a racimolare molte risorse in un tempo ristretto, permettendovi di far scendere in campo il sit più famoso e temuto che spazzerà via qualsiasi ostacolo gli si parerà innanzi. Quindi, dopo aver visto il contenuto di questo prodotto, rispondiamo alle domande. Converrà acquistarlo? E a chi servirà? Lo starter per due giocatori di sicuro sarà adatto a tutti coloro che vorranno dare il via alla loro avventura tra le stelle, iniziando grazie ai due deck presenti in esso di testare le dinamiche iniziali che muoveranno questo TCG. E la cosa bella sarà che attraverso i primi match vi farete un'idea ben precisa del gioco, capendo dopo diversi incontri se farà per voi o meno. D'altronde, gli starter servono proprio a questo, avvicinare i curiosi alle meccaniche del GCC di riferimento. Il suo costo indicativo sarà di 40 euro e dentro la scatola troverete tutto ciò che vi servirà per dare inizio al vostro cammino nel bene o nel male. Spetterà a voi la scelta che vi vedrà servire la forza come Cavalieri Jedi o come Oscuri Signori dei Sith. Prima di concludere, volevo ringraziare Magician Circle per aver fornito l'articolo trattato in questo contenuto. Come sempre, tutti i riferimenti li troverete in descrizione. Concludendo, quindi, la risposta è Sì, converrà acquistare lo starter per due giocatori targato Star Wars Unlimited, dato che esso rappresenterà un ottimo punto di partenza per chi vorrà provare il gioco prima di buttarsi a capofitto nell'acquisto di box di espansione, così da assaggiare gli aspetti sia negativi che positivi di questo titolo, ancora prima di forgiare il destino che vi attenderà con la fedele spada laser al fianco pronta per essere sguainata. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio, verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!